Si è svolto questa mattina nella sala conferenza dell'Istituto Agrario Giustino Fortunato di Eboli organizzato dal Consorzio di Bonifica dell'Associazione Nazionale Bonifiche, Edicazioni e Miglioramenti Fondiari e dall'Istituto di Istruzione Superiore di Matteo Fortunato un importante convegno sul tema funzioni e ruolo dei consorzi di bonifica nella programmazione, gestione e manutenzione del territorio campano. All'incontro, dopo i saluti della dirigente, la professoressa Laura Cestaro e l'intervento del presidente Ambicampania, Vito Busillo, hanno preso parte diverse personalità politiche e istituzionali. Ha concluso l'onorevole Filippo Gallinella, presidente XII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. Siamo qui oggi insieme a alcuni colleghi proprio perché abbiamo avuto il piacere di conoscere il Consorzio a destra del Sele un po' di mesi fa alla Camera su un progetto che ha visto la rucola come protagonista. Poi noi i rapporti con i consorzi di bonifica in generale ce li abbiamo da tempo perché la gestione dell'acqua in agricoltura è fondamentale. Uno perché l'acqua dà valore aggiunto alle culture, due perché la gestione dell'acqua preserva il territorio. Oggi ho gradito questo invito partendo proprio dall'Istituto Agrario perché qui i ragazzi possono vedere come utilizzare anche la tecnologia per fare le produzioni e valorizzare le produzioni tipiche di questo territorio. Poi nel pomeriggio andremo a vedere alcune opere sul Sele sia la diga per la gestione dell'acqua sia anche un impianto per la gestione dei liquami della bufala perché il problema dell'azoto è importante e con questo nuovo impianto che mi hanno detto che è unico nel suo genere escono dei prodotti senza azoto quindi senza nessun impatto sul territorio anche perché la sostenibilità sarà il futuro delle produzioni e su questo noi lavoreremo sempre in Commissione di Agricoltura per puntare appunto su questi obiettivi. È un ruolo importantissimo quello dei consorzi soprattutto in questo territorio. I consorzi di bonifica in Campania ma segnatamente nella Piana del Sele rappresentano l'elemento della distintività agricola. Se esiste un'agricoltura di qualità esiste un consorzio di altissimo livello. È evidente che il consorzio è retto da un sistema di governo cioè l'autogoverno. Un imprenditore come me ma tanti altri imprenditori sono soggetti che possono guidare i consorzi di bonifica quindi c'è un'azione diretta tra le esigenze del territorio tra le esigenze delle imprese e quindi la capacità di mettere in piedi innovazioni e soprattutto guardando ha la qualità degli alimenti, la qualità che si porta dietro la qualità del suolo, la qualità dell'acqua, la qualità dell'ambiente. Quindi noi siamo i veri antesignani dei sistemi di altissima qualità. Grazie ai consorzi di bonifica si può pensare che un territorio di qualità risponda a quelli che sono i canoni dell'alta qualità. L'agricoltura riveste un ruolo fondamentale strategico per la Piana del Sele che poi si riflette nell'ambito formativo con l'incremento notevole del numero di scritti che abbiamo presso l'Istituto Tecnico Agrario oramai da anni e soprattutto è caratterizzata da un'innovazione notevole che con l'agricoltura 5.0 e l'agricoltura di precisione noi siamo in grado di garantire in relazione agli impianti serricoli che sono una caratteristica precipua della Piana del Sele e soprattutto siamo in grado di sperimentare in via definitiva e nell'ambito delle attività di ricercazione che oramai da anni caratterizzano il piano dell'offerta formativa della nostra istituzione perché garantiamo una serie di percorsi formativi anche con le università finalizzati all'agricoltura di precisione anche con l'utilizzo di droni.